Per quanto tu possa amare il tuo sito, probabilmente non controllare ogni minuto se è online o se è offline. Bene, è quello che facciamo noi con il servizio di uptime monitoring per controllare se ci sono dei problemi, problemi che possono essere temporanei, magari legati all'hosting, e che è comunque importante sapere per valutare se stiamo pagando un servizio efficace o no, oppure problemi più seri che mettono sito offline e che necessitano un nostro intervento di ripristino. E' già capitato, è molto importante fare questo monitoring per capire se ci sono problemi sul sito prima che se ne accorgano i tuoi clienti, i tuoi visitatori o chiunque vada sul tuo sito. E' già capitato un paio di volte e stavo dicendo di ripristinare situazioni problematiche prima che se ne accorgesse il cliente. Da poco abbiamo introdotto anche il monitoring del certificato SSL, che cosa significa? Significa che con l'adozione del protocollo sicuro HTTPS, che ti raccomando se già non lo usi, ci sono delle problematiche nuove legate proprio al certificato SSL, che può scadere, può essere mal configurato, può avere degli altri problemi. Bene, monitoriamo anche questo ogni minuto e se c'è qualche problema siamo notificati e ti notifichiamo. Per qualunque chiarimento siamo a disposizione. Adesso torno a lavorare, un saluto.